è un'easy, che unisce una sustanza interna, dei tre, schiacci quello, c'è un easy, una cosa del genere, schiacci quello e fa tutto in automatico il contrasto della luce con l'altro è forte una c'è l'altra, fa l'intermato e 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